il mare l'oceano i caraibi i pirati beh io amo i pirati amo i pirati perché da bambino li ho sempre visti come coloro portati all'avventura non vedevo mai il lato il lato sanguinario li vedevo come uomini che uscivano dagli schemi facevano belle cose diverse dalla routine di tutti i giorni avventure vedevano nuovi mondi combattevano ma senza far male a nessuno nella mia mente era questo anche adesso un po ci penso quindi quando vedo quei bei film hollywoodiani che negli anni 40 e 50 sopra l'epoca d'oro di hollywood ne sono stati fatti tanti quei film di cappe spada pirateschi oppure medievali e tutto sono belli belli perché portano un mondo antico portano all'avventura magari uno che fa la solita vita di tutti i giorni vede questo è bello è bello pensare a un mondo differente no? almeno non ci abituiamo alla bruttura delle cose di tutti i giorni ma è bello pensare a un mondo idilliaco un mondo diverso e allora questo film nel mar dei caraibi del 1945 con il grande Paul Henriette noi l'abbiamo visto in un celeberto film uno dei più belli forse il più bello lo metterei sullo stesso piano appunto lui è quarto potere di Wells Casablanca dove Paul Henriette faceva Laszlo faceva quell'idealista che combatteva per i suoi ideali rincorso appunto dai nazisti quindi fuggitivo con la sua compagna Ingrid Bergman che faceva soffrire Bogart perché la Bergman lì era stata una sua ex Paul Henriette che è veramente lui di origine ungherese quindi a cui fa il pirata però con la Mauri Noira anche lei una famosa attrice di quei tempi grande Hollywood eh Junior mio amico Junior Salami che come ama la grande Hollywood quella dei tempi d'oro questo è un film dedicato anche a lui questo mar dei carabbi allora Junior immaginiamo noi di farci condurre da Paul Henriette che è questo capitano capitano olandese che per varie vicissitudini viene imprigionato viene condannato allora lui eh in un certo senso per rivalersi rivalsa contro il mondo diventa un pirata ecco tante volte eh alcune persone che nella vita si sono sempre comportate bene quando subiscono dei torti scatta qualcosa e dice ma perché devo continuare a essere stupido perché devo continuare a essere fesso allora lui diventa un pirata un pirata combatte eh vuole depredare appunto va per lasciare di tutto finché conosce Mauri Noira che è una nobile e poi vabbè non vi dico tutto del film questo è un film di evasione un film da vedere come i pirati dei con tutto rispetto meglio comunque un po dei pirati dei dei caraibi tutta quella saga che hanno fatto al giorno d'oggi è un film per chi ama la fantasia anche se del 45 una stupendi colori ecco per quei tempi belli sembra appunto un dipinto animato ecco e poi bello vedere i combattimenti la cosa è detta cappa e spada c'è azione c'è movimento non è un film perché ho quelli che amano il il film sentimentali poi c'è appunto sentimento fra i due però è un film d'azione è un film da vedere in questo modo un film non è una pietra miliare nel cinema perché non è non ha così profondi significati ma è un film da vedere da assaporare per vedere cos'era anche il cinema hollywoodiano ecco quei combattimenti quei gesti atletici alla eron flynn alla douglas fairbanks bello questi attori appunto prestanti la vera hollywood questa hollywood appunto che ci dà l'attore l'attore che è quasi un super uomo bello ai tante come dire un tarzan dei mari ecco mi avventuro voglio avventurarmi in questa in questa parallelismo un po azzardato e mi piace mi piace lo guardo sempre volentieri è bello per chi ama al cinema andare alla ricerca di questi film meno conosciuti però è una scoperta continua allora scopriamo anche il polen reed è un grande un grande attore ha fatto appunto partecipato a casa blanca uno dei ruoli principali già questo è stato per lui il lancio e quindi il protagonista e ci trasporta in un mondo di sogni in un mondo diverso e nel mar dei caraibi chi non ha mai pensato di farsi una vacanza un viaggio nei caraibi allora amici miei facciamolo guardiamoci questo film e immaginiamo i caraibi immaginiamo i pirati i bucanieri che bello